Federico Leoni, buongiorno. Buongiorno, Livio Partiti. E benvenuto, davvero benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere un libro molto particolare, un libro che ci siamo portati appresso anche visitando una mostra, e la mostra la riveleremo fra poco. Intanto ricordo che Federico Leoni insegna antropologia filosofica all'Università degli Studi di Verona, si occupa di rapporti tra filosofia, psichiatria, psicoanalisi, e sono argomenti molto importanti che necessariamente vanno approfonditi, studiati per dare un senso al respiro contemporaneo e anche un senso al respiro di una parola che andremo ad attraversare fra poco, cioè la parola arte. E attraversando questa parola attraverseremo il nostro sguardo, la nostra vita, è un po' come attraversare gli specchi che tra poco il nostro ospite ci racconterà. Stavo parlando poco fa della mostra che si è chiusa, credo da pochissimi giorni, a Firenze, a Palazzo Strozzi, quella di Anish Kapoor. E Federico Leoni, con il libro Metafisica dello specchio, ci riporta dentro questa mostra per guardarci anche dentro e per capire che da una mostra d'arte non si esce solamente con un bagaglio di informazioni e di emozioni artistiche, ma di molto altro ancora. Anish Kapoor è la poesia delle superfici. Questo è il sottotitolo del libro pubblicato da Marsilio Arte. Federico Leoni, cominciamo subito con una domanda molto molto semplice, perché non tutti i nostri ascoltatori di certo conosceranno la figura, peraltro molto plurale, ma proprio perché plurale fortemente singolare, la figura di Anish Kapoor. Chi è? È uno degli artisti contemporanei più notti, più influenti, questo da alcuni decenni. Io direi dalla fine degli anni 70, dall'inizio o dalla metà degli anni 80, forse la sua influenza a livello internazionale diventa più incisiva. È un artista anglo-indiano, cioè indiano d'origine, e poi inglese, britannico di adozione, cioè di studi. Dall'Accademia d'Arte frequentata all'inizio degli anni 70, lui si è trasferito a Londra. E da lì poi la sua attività si è irraggiata veramente in Europa, e poi nel mondo. Le sue opere si possono vedere davvero ovunque nel mondo, nelle grandi città, nelle piazze delle grandi città. Dico questo perché l'ho presentato come un artista, e in effetti è un artista poliedrico, polimorfo, che ha frequentato molti linguaggi differenti, ha dipinto, ha disegnato, ma soprattutto ha scolpito, è uno scultore anzitutto, e poi è uno scultore che ha prodotto, realizzato, progettato opere nelle quali spesso si è spesa la parola monumentale, opere monumentali, delle installazioni, potremmo anche dire con un termine più attuale, che non quello tradizionale di scultura. Faccio un esempio. A Napoli ha progettato e ha realizzato una cosa che è sul punto di essere inaugurata, se non sbaglio questo avverrà a giugno, cioè una stazione della metropolitana, quella di Monte Sant'Angelo. Lui ha progettato in particolare l'imboccatura delle scale mobili, che però è una cosa enorme, cioè non è una scultura nel senso di una statuetta o anche di una grande statua, che ne so, equestre, di quelle che vediamo nei parchi. È un'enorme installazione dentro la quale si entra per scendere appunto nelle profondità della terra, della linea della metropolitana, eccetera. È la stazione di Monte Sant'Angelo. La stazione di Monte Sant'Angelo, la linea 7, i giornali ne hanno anche parlato proprio all'inizio del mese di dicembre, se ricordo bene, proprio perché c'è stato un trasporto eccezionale, e certamente per montare questa gigantesca installazione di Anish Kapoor, che è in effetti l'entrata della stazione della metropolitana per l'appunto a Napoli. Credo che sia anche un bel simbolo, un bel, oltre che un risultato per la città di Napoli, ma un simbolo fortemente indicativo dell'arte a Napoli, proprio con un lavoro di Anish Kapoor. Cosa ne pensa Federico Leoni? Beh, sì, è un simbolo, come dire, di una grande apertura della città al nuovo, all'innovazione, all'arte come elemento che si integra al paesaggio, e anche all'esperienza dell'abitare, dell'abitare un quartiere, una città, che a quel punto viene marcato in modo molto evidente, da una presenza che certamente non passa inosservata, che è un'occasione di incontro per tutti gli abitanti di quel quartiere, per tutti quelli che ci passano, con qualcosa da un lato assolutamente strano e lontano e allo stesso tempo qualcosa che diventa piano piano del tutto familiare e vicino e che forse può innescare anche una procedura di scoperta collettiva. E poi è un simbolo molto forte non solo di una presenza artistica, ma di quella presenza artistica, di quell'operazione molto specifica che Kapoor ha fatto e che ha anche suscitato in realtà, oltre che reazioni di grande simpatia e divertimento, ha suscitato anche molte polemiche, perché questa enorme ciambella, non so come dire, fatta di acciaio corten, che è quella specie di ferro rugginoso, quell'acciaio che ha sempre un'aria un po' arrugginita. In realtà è la sua natura, è fatto così, è progettato per essere fatto così. Appunto questa grande ciambella disposta intorno all'imboccatura delle scale mobili, che quindi discendono attraverso una specie di cunicolo pertugio, di tunnel, molto in profondità, poi come spesso capita a Napoli, la metropolitana spesso è molto profonda, passa molte decine di metri sotto la superficie. Ecco, questa grande ciambella in realtà, vista dal punto dell'imboccatura in particolare, e poi è ancora più vista dall'alto, cosa che è stata mostrata con gli elicotteri, eccetera, con i droni, è un organo femminile. Quindi molta della, come dire, battaglia che ha accompagnato quest'opera era tra il divertito e l'indignato. No, ma non si può fare una così grande fessa attraverso cui accedere alle profondità della terra, ma naturalmente questo è il tema. Questo è il tema di quell'opera, nel senso che la metropolitana è un punto di discesa in una cavità sotterranea, è un punto di catabasis. E poi non è solo il tema di quell'opera, ma è uno dei linguaggi, uno dei mitologemi, mi viene da dire, che Capur ha frequentato più spesso, insieme agli specchi, insieme a alcuni linguaggi, come lui li chiama, che hanno orientato la sua ricerca. Lo specchio, il buco barra passaggio, barra tunnel, l'oggetto in forme, che di nuovo ha a che vedere con il corpo, ma con il corpo dentro, anziché con il corpo superficie, con il corpo visto da fuori. Ecco, ci sono alcuni linguaggi. Certamente il linguaggio, diciamo, del passaggio, del tunnel, dell'ingresso, della discesa in una profondità, della discesa in una cripta, con tutto ciò che questo, anche nella tradizione, direi, non solo dell'arte occidentale, ma nella tradizione anche rituale di ogni umanità. Tutto questo ha a che fare con qualcosa che si lega al femminile, alla discesa, nella profondità, di quello che Goethe chiamava il regno delle madri. Ecco, questo è un filone maggiore, ecco, nell'opera di Kapoor. E potremmo chiederci come, ci si chiede, se ricordo bene, in questo libro, troppo contrastanti queste opere d'arte, opere d'arte, ma sì, potrebbero essere anche considerate troppo contrastanti, ma nel contrasto noi viviamo ogni giorno, e forse ci accorgiamo del contrasto solamente quando ci viene esposta l'opera d'arte. Allora l'opera d'arte ci sbatte in faccia la realtà che noi non viviamo, oppure guardiamo dall'altra parte. E quindi, e quindi quel contemporaneo che l'arte ci dà, in questo caso quella di Anish Kapoor è qualche cosa che è un colpo nello stomaco ogni volta. Questa discesa agli inferi a cui lei faceva riferimento, ma anche il porsi di fronte a uno specchio. Per esempio, parlando della mostra di Firenze su cui lei indaga molto attraverso questo saggio, metafisica dello specchio, anche attraverso lo specchio possiamo entrare in quello a cui lei faceva riferimento, mi correga se sbaglio Federico Leoni, proprio in quella discesa. Nonostante lo specchio sia piatto oppure curvo oppure concavo o convesso, noi entriamo sempre in qualche cosa. E dobbiamo, e dobbiamo far sì che il nostro sguardo entri in questo qualcosa e cominci questa discesa. Sì, lei diceva bene, è un'arte di contrasti. Un primo contrasto, per esempio, è quello tra la superficie e la profondità, tra l'estensione e la vastità da un lato e lo sprofondamento, l'intensità, l'intensificazione dall'altro. E però è anche vero che non ci sono opere che stanno tutte da un versante e non anche dall'altro. Ogni opera di Capur è contrastante in se stessa. Non è solo che lui ha frequentato dimensioni contrastanti, è che in ognuna le ha anche annodate, le ha anche sovrapposte, per cui effettivamente lo specchio da un lato è un inno alla superficie, non c'è nulla dietro, non c'è nulla al di là, poi è un inno alla superficie anche per il modo in cui Capur fabbrica i suoi specchi, è una cosa che ha raccontato in qualche occasione. Cioè, sommando molti piccoli pezzi, dobbiamo immaginare degli specchi enormi, come il cosiddetto Bean, che significa fagiolo, a Chicago, in una grande piazza di Chicago, c'è installato questo enorme oggetto tondeggiante, grosso modo della forma di un fagiolo, specchiante, è ottenuto attraverso la sommatoria di migliaia e migliaia di piccoli pezzi che vengono giusto apposti uno all'altro e poi levigati con una tale perfezione che non si nota nulla di questa sommatoria, di questa addizione, di questa natura segmentata, ecco, dell'operazione che ci sta dietro. È una superficie assolutamente perfetta, assolutamente inscalfibile, intatta, monoblocco, come se appunto fosse nata di colpo e quasi nata da sé, cioè senza operazione umana. Quindi in questo senso dicevo, è un inno, da un lato ha una superficie assolutamente perfetta e priva di qualunque scalfittura, traccia e così via. Dall'altro è chiaro che lo specchio è un dispositivo di cattura, che lo specchio trascina dentro, che lo specchio cattura ciò che è davanti o chi ci si mette davanti dentro al suo spazio, dentro a questo suo come dire enclave, dentro a questa sua questo suo doppio fondo, dentro a questo suo al di là, che non è al di là però è anche senza fondo, è anche senza dimensione, senza posizione, senza collocazione diciamo nel nostro spazio. Ecco, lo spazio dello specchio è uno spazio a sé stante e noi siamo istantaneamente convocati o forse risucchiati lì dentro. Quindi da questo punto di vista il linguaggio dello specchio o il il modulo, il modello dello specchio che è uno di quei linguaggi ricorrenti a cui il nome di Capur si è legato nel modo più evidente, più vistoso, più celebre. Ecco, come se il linguaggio dello specchio fosse da un certo punto di vista tutt'uno con il linguaggio del profondo, dello sprofondamento del buco. A proposito di buco, entriamo proprio in questa in questa prospettiva che è sconcertante per molti aspetti. Quella mancanza, quel buco, mi riferisco per esempio al capitolo intitolato Ogni Cosa è uno specchio, quel grande specchio con un diametro di circa sei metri collocati all'interno di una foresta, di un bosco. Sky Mirror è intitolata l'opera. E questo specchio di sei metri di diametro lievemente concavo è lucidissimo e sembra intero tutto quanto completo, eppure eppure c'è una mancanza ed è forse proprio in quella mancanza che noi troviamo un nostro sconcerto. Eh sì, è la cosa che mi ha colpito la prima volta che ho visto uno di questi specchi che sono comparsi come già dicevo in tanti luoghi del mondo, in tanti contesti, in un grande parco inglese, in una corte veneziana a un certo punto lo stesso Sky Mirror è stato messo, installato a Venezia nei giardini di Versailles qualche anno fa. Ecco, quando ho visto uno di questi specchi mi sono detto guardando complessivamente da lontano questo paesaggio è quello più che uno specchio che mi restituisce a me è più un buco nel paesaggio, è più una mancanza, uno scavo, una specie di negativo, una specie di vuoto nella continuità del tessuto paesaggistico, c'è del verde, c'è dell'erba, ci sono degli alberi, c'è l'azzurro del cielo, c'è tutto quello che noi ci aspettiamo che ci sia e poi improvvisamente c'è in mezzo al prato un pezzo di cielo perché naturalmente lo specchio è voltato, diciamo così, è inclinato in modo da catturare il cielo. Allora improvvisamente c'è qualcosa che non dovrebbe stare lì, è una specie di trapianto da un certo punto di vista, è una specie di eccesso però è anche una specie di mancanza, però è anche un pezzo di prato che manca e inizialmente vedi dell'azzurro ma non capisci esattamente che è il cielo, questa è una scoperta successiva e ha a che vedere con l'interpretazione dell'opera ma il primo colpo appunto è un colpo cioè qualcosa che ti tocca che non ha a che vedere con il significato con il che cos'è che cosa significa cosa vuol dire cosa intendeva fare cosa io posso farmene no no anzitutto vedi una specie di strappo di lacerazione e questa ferita questo strappo che arriva prima di ogni nostro pensiero di ogni nostra costruzione del pensiero e questo e questo strappo ci ferisce o c'è niente io direi che ci sollecita che ci ferisce ma in un modo sollecitante no ma in fondo l'arte è un'operazione estetica come si dice estetico non significa che ha a che fare con il bello questo è una deformazione una deriva semantica che a un certo punto la parola ha preso per tanti motivi anche comprensibili e su cui si potrebbe lungamente discutere ma non è questo il punto è che estesis significa sensazione cioè l'essere toccati da qualcosa è una sensazione che tocca che prende che trascina quindi in questo senso smuove in questo senso traumatizza a qualcosa di traumatico a qualcosa di una ferita come lei diceva di una puntura questo senz'altro però è anche una puntura che smuove e che attiva cioè che intensifica l'esperienza che sveglia ogni risveglio ha qualcosa di traumatico come sappiamo ogni mattina il risveglio è anche un impatto oltre che una festa ma anche ogni festa ha qualcosa di eccessivo e di eccedente rispetto al ritmo diciamo così dei giorni e delle ore normali e quotidiane e allora l'abilità dell'artista ha sempre a che vedere con il toccare anzitutto e solo dopo con il costruire un significato intorno a quel tocco iniziale solo dopo come posso dire l'iconografia la simbologia il discorso il fatto che l'immagine diventa discorso il fatto che l'oggetto significa un insieme di cose perché sta dentro un contesto di cui noi anche partecipiamo di cui noi possiamo nuovamente renderci partecipi leggendo e studiando e così via ma anzitutto l'arte è un tocco e l'altro lato di questo è l'arte è un rito serve a toccare serve a mutare serve a strappare l'esperienza al suo trantran no? trascinandola in una specie di buco che però è veggente una specie di sprofondo improvviso da cui però si vede di più e quindi da questo punto di vista Capur è molto elementare mi viene da dire cioè ogni suo linguaggio tocca qualcosa che è dell'ordine dell'operazione primordiale dell'arte ma proprio perché elementare è molto ha una profondità straordinaria ogni opera d'arte di Anish Kapur io visitando la mostra Untrue Unreal chiusa da qualche giorno a Firenze a un certo punto ho avuto quella chissà poi perché quando sei di fronte a qualcosa a qualcuno in questo caso un'opera d'arte ti vengono in mente delle cose che e poi ti chiedi perché forse non è nemmeno necessario chiedersi perché bisogna semplicemente che le cose entrino nella mente ed escano no? e ti diano una ragion d'essere ecco il verbo essere di fronte a un'opera d'arte di Anish Kapur è importante e quello che mi è venuto in mente è sì io sono davanti a quest'opera d'arte a questo specchio io mi sento come gettato in questo mondo che è chiamato specchio e qui mi ha ricordato la condizione filosofica di Heidegger che noi siamo tutti gettati nel mondo la nostra condizione per vivere in questo labirinto che è l'esistenza quest'opera d'arte queste opere d'arte di Anish Kapur sono esistenza anch'esse dire che siamo gettati anche proprio nel senso di Heidegger significa che noi non abbiamo padronanza che la padronanza se c'è un momento successivo ulteriore si raggiunge con un'operazione in più diciamo così o con molte operazioni in più con un lento apprendistato ma anzitutto significa che essere nel mondo significa trovarsi nel mondo nel senso letterale della parola trovarsi significa ritrovarsi eccomi qua mi colpo l'esperienza dell'eccomi qua situato dove non ho calcolato di essere dove non ho voluto essere dove non ho scelto di essere ma ogni calcolo ogni scelta ogni volontà sarà appunto ulteriore successiva e dipendente rispetto a questo impatto di nuovo la questione dell'impatto ecco anche le opere di Capur hanno questo io direi di elementare in un certo senso di arcaico che non prevedono uno spettatore o comunque non dipendono da uno spettatore è lo spettatore che dipende da loro è lo spettatore che è calamitato da loro è lo spettatore che si ritrova davanti a loro e si scopre e si sente davanti a loro si individua nella sua posizione e si posiziona a partire da questa specie di assoluto che è l'opera l'installazione ma anche il più semplice il più modesto dei disegni di Capur funziona così ha qualcosa di stupefacente nel senso letterale del termine oppure di traumatico ha qualcosa di prima dicevo assoluto perché effettivamente ha qualcosa di molto di molto legato a un'esperienza che non è la nostra per cui l'opera d'arte è un oggetto offerto a un occhio pensato perché si offra all'occhio di uno spettatore di un lettore di un esperto di un degustatore di un apprezzatore noi pensiamo spesso l'arte come produzione di oggetti e come offerta di oggetti a un osservatore lì invece ci sono degli oggetti che sono completamente racchiusi in se stessi completamente indifferenti alla presenza di uno spettatore oppure all'assenza di uno spettatore e hanno questo disconcertante che sono come il mondo il mondo non ha nessun bisogno di uno spettatore per essere noi facciamo esperienze improvvisa di questo essere che è densissimo e assoluto e aggiungerei è per questo che la monumentalità è così come posso dire ricorrente nelle scelte di Capur le sue opere sono spesso enormi e però la monumentalità paradossalmente è qualcosa che si trova che ci raggiunge anche da un'opera piccola chiamiamola così di Capur cioè anche le opere più piccole anche il buco totalmente nero largo una spanna nella parete bianca di una galleria d'arte anche questo altro linguaggio che lui ha molto frequentato anche quello ha qualcosa di monumentale perché ha qualcosa di assoluto di indipendente da noi qualcosa che ci convoca e allo stesso tempo che è totalmente indifferente a noi siamo noi che dobbiamo improvvisamente lottare interrogare arveggiare mi viene da dire per situarci in un qualche modo davanti a quell'assoluto e questo è abbastanza divertente anche cioè detto così ha qualcosa forse di inquietante di traumatico di angosciante non la gettatezza di Heidegger però ha qualcosa anche di divertente e allora parliamo a proposito divertente di Bergson a questo punto vero? sì a un certo punto avevo pensato di costruire poi ho scelto un'altra via e ce ne sono delle tracce però nel libro avevo pensato di costruire il libro attraverso non anzitutto il riferimento a delle opere esemplari di Capur ma attraverso i gesti degli spettatori quello che gli spettatori fanno davanti tipicamente a quest'opera a quell'altra opera davanti a questo tipo di operazione artistica che Capur realizza davanti a quell'altro cosa fanno davanti ai buchi di Capur per esempio del tipo che descrivevo prima a volte sono dei buchi diciamo così effettivi e poi ricoperti di un nero particolarmente profondo che lui ha anche brevettato diciamo così tra virgolette che si chiama Vantablack è un nero particolarmente capace di assorbire per come è fatta la sua superficie potremmo dire che è il nero più nero quello è il nero più nero quasi più nero che sia mai stato realizzato nella storia dell'umanità poco dopo ne hanno realizzato uno ancora un pochino più nero servono degli strumenti tecnici raffinatissimi per notare questo ulteriore diciamo progresso verso la nerezza più totale la cosa interessante è che quando questi buchi diciamo reali questi scavi nella pietra nella parete eccetera poi ricoperti di questo nero oppure anche quando non sono degli scavi reali ma è semplicemente un tondo di questo Vantablack applicato a una superficie ma è così assorbente che i movimenti degli spettatori diventano assolutamente omogenei qualunque spettatore si trovi davanti a uno di questi buchi o di questi tondi assolutamente neri qualunque spettatore compie gli stessi gesti si avvicina si allontana inclina la testa inclina il busto lo guarda un po' di sbieco cioè tenta di situare questo oggetto che non è situabile perché non è un oggetto in qualche modo cioè non è un oggetto fatto di spazio dentro a uno spazio che lo contiene essendogli però omogeneo ogni oggetto di cui noi parliamo o abbiamo esperienza quotidianamente è un oggetto che ha un suo spessore dentro a un sistema di spessori profondità distanze omogenee rispetto allo spessore di quell'oggetto lì abbiamo qualcosa che eccede questo gioco delle dimensioni abbiamo qualcosa che si sottrae qualcosa che non sappiamo collocare anche potremmo dire per un motivo percettologico nel senso che è un buco non tanto nel senso che è un negativo e un vuoto in una scena che è tutta piena ma è qualcosa che non restituisce luce al nostro occhio e tutto il resto sì e quindi non è qualcosa che manca è qualcosa che manca anche al livello della mancanza manca anche a quell'esperienza che potremmo chiamare mancanza sul tavolo non c'è più la mela che io ci avevo messo però c'è qualcosa evidentemente c'è la superficie del tavolo prima nascosta dalla mela invece immaginiamo di togliere anche la mancanza della mancanza non sappiamo più che fare e infatti i gesti degli spettatori sono di grande imbarazzo sono molto goffi sono abbastanza buffi sono dei gesti da cartone animato come ho provato a dire nel libro sono dei gesti simili a quelli del vile coyote del wild coyote davanti appunto a quei miraggi che lui stesso a volte produce nei cartoni animati e poi ne rimane vittima regolarmente ecco è molto interessante la chiamerei così una fenomenologia dello spettatore davanti a questo oggetto che è così assoluto che mette in questione il fatto che ci sia uno spettatore e che uno spettatore possa fare qualcosa di sensato davanti a questi oggetti vorrei chiudere questa conversazione dedicata a Metafisica dello specchio il libro di Federico Leoni pubblicato da Marsilio Arte parlando di di un aspetto importante che lei in questo libro cita il critico italiano leggo Demetrio Paparoni ha parlato del grande silenzio che sembra avvolgere le sculture di Capur anche le più piccole quelle degli anni 70-80 create quando il mondo della pittura e della scultura britannica allora emergente privilegiava opere sgargianti rumorose declaratorie ora io vorrei toccare Federico Leoni proprio questo questo tema dell'opera d'arte e del grande silenzio che emana e quindi di fronte a questa emanazione del silenzio lei poco fa parlava dell'esperienza di fronte al buco nero di fronte a questo silenzio come si rende possibile fare esperienza di quello che noi facciamo esperienza noi veniamo da una lunga tradizione che ci insegna con tutta la buona volontà della pedagogia che le opere d'arte sono importanti perché vogliono dire qualcosa perché gli artisti vogliono dire qualcosa perché c'è un messaggio perché c'è un significato perché c'è un simbolo perché se la madonna tiene in mano un giglio è perché il giglio è bianco e questo significa la purezza eccetera eccetera cioè siamo come posso dire cresciuti dentro all'ermeneutica cioè all'idea che dobbiamo interpretare l'opera e che l'opera è stata fatta per essere letta decifrata interpretata siamo tutti in qualche modo vittima dell'iconografia cioè dell'idea che appunto il giglio significa questo il manto blu della madonna significa quest'altro eccetera eccetera cioè di nuovo che l'arte abbia qualcosa a che fare con il voler dire e invece qui troviamo improvvisamente un'arte che semplicemente accade e che non vuol dire nulla non possiamo neanche fare il giochino tipico della filosofia che consiste nel dire che l'arte appunto in questo caso accade vuol dire semplicemente il suo accadere perché anche questo sarebbe un tentativo di raggiro non so come dire di riacchiappare l'assolutamente insignificante dentro al gioco dei significati della significazione della parola e alla fine della pedagogia cioè dell'edificazione farne qualcosa di edificante farne qualcosa che ci accultura ecco questa operazione artistica che invece torna costantemente in Capur e io credo tutta l'arte anche quella che è intrisa di iconografia di simbologia anche l'arte più colta più raffinata al fondo se ci tocca è perché non vuol dire nulla però è un nulla che ci convoca non vuol dire nulla però è un silenzio che è anche nostro Federico Leoni guardiamoci indietro nella storia della pittura quale artista le viene in mente pensando all'opera capuriana mi viene in mente un artista senza nome che ha costruito una cosa che si chiama Pozzo di Santa Cristina è un'opera diciamo della civiltà nuragica in Sardegna e che è l'esatto analogo chissà se Capur lo conosce non lo conosce suppongo di sì della metropolitana di Monte Sant'Angelo da cui siamo partiti e mi piace anche questa cosa che sia un artista senza nome e che l'arte abbia qualcosa a che fare con il senza nome al di là del fatto che il nome di Capur è così famoso è uno degli artisti più riconoscibili per le sue opere ma anche dei nomi dell'arte contemporanea più riconoscibili ma quello che lui fa è senza nome cioè appartiene a una tradizione che è senza tempo che ritorna costantemente in modo anacronico potremmo dire se volessimo far vedere che abbiamo studiato e che attraversa punteggia diciamo così con dei punti sempre identici quella che chiamiamo la storia dell'arte è che da un certo punto di vista non è affatto una storia cioè non è una successione un progresso è un'insistenza ecco quello di cui lui è testimone è l'insistenza senza nome di operazioni comuni il buco il discendere nella cripta sottostante come appunto nel pozzo di Santa Cristina di cui prima il risalire evidentemente il surfare alla superficie lo sposare è la causa della pura superficie senza un vietro quindi lo specchio quindi la superficie assolutamente piana e levigata il bianco puro il giallo puro di cui sono fatte certe sue opere soprattutto di qualche decennio fa ecco questo ha a che vedere di nuovo con il non voler dire e con il toccare attraverso il non voler dire e con il fatto che questa cosa che tocca non ha nome e dunque neanche l'artifice di questo non voler dire può aver nome Metafisica dello specchio è il libro che abbiamo attraversato insieme con l'autore Federico Leoni Anish Kapur e la poesia delle superfici il libro è pubblicato da Marsilio Arte ma prima di salutarci Federico Leoni qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Che cosa sto leggendo in questi giorni? Devo andare letteralmente sul comodino dove ho una pigna di tante cose differenti ma direi che in cima alla pigna per un qualche motivo abbastanza casuale ma l'ultimo che ho aperto delle varie cose c'è Lucrezio il Dererum Natura e subito sotto c'è il libro di Johnny che è il libro di Fenoglio che riunisce non solo il partigiano Johnny ma anche diciamo in una prima redazione che lui aveva costruito poi smembrando l'opera secondo la volontà degli editori eccetera ma racconta non solo la stagione partigiana di Johnny ma anche il periodo liceale ad Alba cioè quando lui è più giovane non ha ancora diciamo abbracciato la causa della montagna eh sì questo è è un percorso importante fondamentale nello stesso tempo se si vuole se si vuole conoscere Fenoglio devo dire che mi fa piacere ricordare il libro di Johnny perché è un libro che quando si parla di Beppe Fenoglio non è molto ricordato però è è un libro è un libro importante per entrare per entrare nello sguardo e nello sviluppo narrativo della scrittura di Beppe Fenoglio a cominciare come diceva poco fa lei Federico Leoni proprio dalla dagli anni del liceo di Alba il liceo il liceo Cocito o Govori non ricordo più come si chiami e intanto io vorrei ancora prendere un attimo di attenzione al nostro ospite perché vorrei alcune informazioni laddove sia possibile averle perché Federico Leoni è stato coordinatore scientifico di un festival molto importante e interessante CUM ad Ancona ritornerà CUM e dove? a Pesaro all'inizio di aprile il 6, 7, 8 di aprile venerdì sabato e domenica quindi per così dire siamo già quasi sotto festival siamo vicini infatti stiamo molto lavorando e allora le auguriamo buon lavoro Federico Leoni e ovviamente ci ritorneremo ritorneremo a raccontare anticipando alcuni incontri come sempre facciamo per i festival e ovviamente anche per CUM festival grazie davvero Federico Leoni e buona giornata grazie Livio Partiti e grazie al posto delle parole